Sul concorso per dirigenti scolastici si stanno addensando nubi che fanno prevedere forti temporali. Non è trascorsa ancora una settimana dalla pubblicazione dei risultati della prova scritta e già si parla di ricorsi e di un possibile blocco dell'intera procedura. In effetti i motivi per protestare ce ne sono parecchi. Il problema principale riguarda il fatto che in realtà la prova scritta non si è svolta nello stesso giorno per tutti. In Sardegna infatti lo scritto era stato rinviato a dicembre a causa del maltempo che aveva provocato la chiusura delle scuole della regione proprio nel giorno previsto per la prova nazionale. E che questo abbia dato un vantaggio ai concorrenti della Sardegna sarebbe dimostrato dalle percentuali dei promossi alla prova scritta. Il 40% a livello nazionale, il 60% nell'isola. Ma poi ci sono tanti altri intoppi, importanti o meno, che secondo molti candidati avrebbero determinato una vera e propria disparità di trattamento. Per esempio in alcune sedi i commissari non hanno lasciato consultare il testo del contratto nazionale, mentre in altre sedi questo è stato possibile. Molti poi recriminano sul fatto che i docenti di lingua straniera risulterebbero avvantaggiati rispetto a tutti gli altri in quanto una delle prove si svolgeva proprio in inglese o francese, spagnolo o tedesco. Per il momento il Ministero non sembra molto preoccupato della situazione, anzi il Ministro Busetti ha già detto che a settembre i vincitori del concorso saranno tutti quanti assunti. Spariranno le reggenze, ha annunciato trionfalmente Busetti, ma dati alla mano non è detto che questo obiettivo possa essere raggiunto dal momento che in alcune regioni i possibili vincitori sono già ora inferiori al numero delle sedi attualmente vacanti. È il caso del Veneto e del Friuli ed è possibile che dopo i pensionamenti legati alla quota 100 il problema riguardi anche altri territori.